Ciao mamma. Ciao. Cosa dovresti fare oggi ai tuoi capelli? Il colore. Ok, senti, dimmi un po' cosa ti piace e cosa invece assolutamente non ti piacerebbe vedere. Allora, mi piace molto la lunghezza dei miei capelli e anche tenere il mio colore naturale, quindi un po' strumento. Non mi piace il fatto che sia così, non mi valorizzi, vorrei che mi rovinasse un po' di più il viso. Ok, quindi se ho capito bene ti vedi un po' troppo spenta, anzi, compatta. Quello che ti propongo per valorizzarti un pochettino è il mio grado al contouring, per andare ad illuminare tutto il contorno del viso, magari su dei toni del nocciola freddo, in modo tale da tirare fuori i tuoi colori naturali, senza però stravolgere la parte che ti piace di più. Poi magari ti consiglio qualcosa per aiutarti a trattare bene queste dute. Va bene? Va bene, va bene, insieme. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Grazie a tutti.